Eccomi qui con una nuova pillola di trading, questa volta per introdurre un estratto a una trading room del servizio Platinum di qualche giorno fa. Infatti in questa trading room io e Antonio Itzi abbiamo discusso della potenza della price action contro tutto quello che fuori arriva e possiamo sentire relativamente a notizie, dati, opinioni, idee, e situazioni che possono diciamo squilibrare il nostro trading, portare svantaggio in realtà in un vantaggio al nostro trading e che quindi ci possono influenzare in maniera negativa nelle nostre decisioni operative. Quindi ascoltate questo estratto, spero vi piacerà, lasciate un like ovviamente se questo video vi sarà piaciuto e se non siete iscritti a questo canale iscrivetevi. Io vi lascio all'estratto della trading room. Alla prossima, ciao! No, Simone all'interno dell'Accademia è arrivato alla parte anche dei livelli di estensione, tutte queste cose qua. E lui fa una considerazione soprattutto a livello finale, no? Considerazioni, guarda, dove lui nella parte finale del post. Questo. Indipendentemente dal discorso tecnico, guardo, mi piace molto quello che ha scritto Simone. Perché effettivamente lui si sta accorgendo, no? Come all'interno di un'analisi di una struttura, cioè se noi andiamo a vedere semplicemente uno degli elementi della struttura di un mercato, che per esempio è il trend, si dovrebbero considerare solo entrate short. Però la nostra analisi settimanale tiene in considerazione non solo il trend, tiene in considerazione i livelli, tiene in considerazione la volatilità, no? Ardu, cioè tu quando fai... Alla fine, ora non abbiamo, forse abbiamo lo storico. Alla fine del periodo che indicava Simone, parlando del 2022, questo era, scusami, sterlina dollaro. Sì, qua. Dopo una settimana del genere, sicuramente se andiamo a prendere a ritroso circa un anno fa, la tua analisi settimanale non è che tu qua prendi in considerazione solo gli short. E questo è il discorso. Perché noi dopo un discorso del genere, ovvio che non ci si mette long la mattina successiva, però il nostro metodo qual è? Analisi settimanale ci ha mostrato già una chiara indicazione del mercato, se ci dà delle conferme sul daily H4, cioè alla fine questo è. Cioè la price action è questo. Non è che noi entriamo sempre solo short perché c'è la tendenza short. È ovvio che si prediligono entrate short, ci mancherebbe. Però in un mercato che sta iniziando a mostrare un cambiamento della struttura, noi siamo veloci nell'adeguarci, no? Cioè non repentini, ma abbastanza veloci perché non è che iniziamo a entrare long quando il prezzo ha ritracciato, alla fine. È finito il movimento. Però esattamente come ha scritto Simone, dalla considerazione che lui ha fatto, lui ha fatto una considerazione, cioè prendendo ad esempio questo mercato, ma ne possiamo prendere quanti ne vogliamo, in un mercato che aveva una chiarissima tendenza short, come in effetti, se poi si va a guardare nel dettaglio e stiamo attenti ai dettagli, ci stavano delle indicazioni che questo mercato potesse fare, creare non per forza un'inversione, ma anche un semplice ritracciamento di quella struttura. E nel frattempo, nel breve, perché noi operiamo comunque nel breve, si possono fare dei trade long, addirittura, con addirittura doppia conferma tra daily e quattro ore, no? Arduce, addirittura, l'esempio di Simone è che lui aveva fatto, c'era stato un settimanale che aveva mostrato una price action che poteva chiamare un ritracciamento, quindi un long. Poi sul daily aveva dato un ulteriore, con la pinna aveva dato un ulteriore conferma. Infine, addirittura, anche il quattro ore si era strutturato, che stava chiamando, e quindi poi inevitabilmente il mercato è venuto su. Quindi assolutamente sì, Simone, è bello il post. È arrivato a maturazione di questo percorso che evidentemente sta facendo nell'Accademia, Simone. Ed è questo l'obiettivo dell'Accademia, perché è un percorso strutturato, no, Ardu, dove persone che, già come Simone, sono sempre stati molto precisi, molto attenti, assidui, che Simone è già un annetto e più che sta con noi, no, Ardu? Ah sì, di più, sì. Eh, forse un annetto, eh, un annetto. No, no, di più un annetto. Ma di più un annetto. Eh, non me lo ricordo benissimo. Però mi ricordo che ci fu al mindset dell'ottobre dello scorso anno, già c'era, quindi... Eh, secondo me sarà un anno e qualche mese, secondo me un anno e qualche mese. Stava già da qualche mese. E quindi bene, perché adesso, adesso lui, diciamo che ha ben capito qual è il discorso, perché altrimenti uno, tecnicamente parlando, tecnicamente parlando, l'entrata long di cui stiamo parlando non è un'entrata contro trend. E' vero, Ardu? Perché noi difficilmente entriamo, se ci pensiamo, a parte le reversal, difficilmente entriamo contro trend, perché noi parliamo di un trend di breve, quando si... non... cioè, il mega trend era short, ma la nostra entrata long eventuale sulla sterlina dollaro, qua, in questo caso, non è un'entrata contro trend, perché nel brevissimo la tendenza si stava strutturando e si era strutturata per il long, quindi la nostra è un'entrata long in trend. Guardate, quando era successa questa roba, intant'è che, se facciamo la big, 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 la bigger picture, la più grande fotografia che ci può essere, abbiamo visto anche che nel lontano 85, se vi ricordate, c'era stato interesse a comprare sterlina. Me lo ricordo, mi c'era, esatto. Me lo ricordo, è proprio lì andata, a 1.03.40, quindi tutta una serie di confluenze che ci stavano dicendo, dici tu, che benissimo il trend fino ad ora era short, ma da quel punto potevano ritrovarsi long, e così è stato poi. Ma ecco perché noi abbiamo, no, Ardu, cioè, noi non è che ci innamoriamo, sterlina dollaro, negli ultimi due anni è venuta giù, per dirti, o negli ultimi sei mesi è venuta giù, e noi siamo solo venditori. Noi siamo invece molto attenti, perché, ecco perché la struttura di un mercato è complessa, non ha solo un elemento, che può essere, per esempio, il trend, che è uno, cioè, ma gli elementi della struttura sono tutti importanti, noi diciamo il trend è importante, e i livelli? Perché qui abbiamo visto come il livello ha tenuto. E lì, la volatilità, il mercato era sceso, rompendo anche il livello precedente, aveva fatto questo, quello, a livello di trigger, se andiamo a vedere, quella è una vera pin bar seria, cioè non è una pin bar, una massive, è una pin bar seria, dove c'è stata una grandissima bugia, e un recupero in chiusura con forza sopra, cioè non una mini pin che poteva essere più trappola, no, più trappola, era proprio una pin bar seria. Ovvio che in quel momento non si trada chiudendo gli occhi, perché la nostra esperienza ci ha portato a vedere che, ecco, operare con le conferme daily, addirittura H4, soprattutto quando ci sono degli elementi di forte tendenza, situazioni di forte tendenza precedente, più conferme cerchiamo e più stiamo operando, diciamo, in tranquillità, perché quello poi è il nostro obiettivo. Cioè il nostro obiettivo non è operare, ma operare in piena tranquillità. Con qualità. È qualità. Per cui non è che noi operiamo, ah no, solo in trend, perché questo negli ultimi sei mesi, due anni, un anno, quello che era, il periodo è venuto solo giù. Se ci mostro un settimanale del genere, noi da quel momento iniziamo a prendere in considerazione non solo gli short, ma anche i long su questo mercato, se ci dà delle conferme. E con questo che tu stai dicendo, Anto, con quello che tu stai dicendo e stiamo dicendo, in effetti noi rispondiamo anche a Michele, perché Michele prima ha fatto una domanda e si risponde con il post di Simone e con quello che stiamo dicendo, rispondiamo anche alla domanda o comunque quello che diceva Michele, che diceva, chiarimento su weekly come bussola, usando ad esempio grafici come Eurodollar o XAUSD, ma potremmo prendere sterlina, cambia niente. Il macro da inizio anno è chiaramente long, ma ci sono periodi di pullback marcato. La bussola la interpreta a long go short a seconda di questi periodi più brevi, ma con consapevolezza che il macro è in tendenza long. È corretto? Cioè, sì, anche i momenti di ritracciamento sul weekly possono diventare dei momenti che nel breve, daily, quattro ore come diceva Anto, con delle conferme adeguate, possono diventare per noi occasioni di vendita in un trend macro più long. o contrario, no? Ma se ci pensiamo è molto logica sta faccenda, cioè non è che adesso Eurodollaro, Eurodollaro, che è una struttura come dicevamo che adesso si è configurata, ma prima che si configurasse per il long, l'Eurodollaro stava short, quindi noi in quel momento ovviamente avevamo una predilezione per lo short di Eurodollaro, che poi è molto simile anche alla struttura della serlina. Qui assolutamente dici, no? Quindi, che succede? Nel momento in cui noi andiamo a vedere che è ok che c'è il trend, però inizia a cambiare un po' il vendo, non è che compriamo l'Eurodollaro oppure la serlina l'abbiamo comprata sui minimi, o Eurodollaro l'abbiamo comprata a 0,95. Cioè, avete sentito parlare di long? Cioè, quando Eurodollaro quotava a 0,95, in qualche trading room avete sentito parlare di long? Prendiamolo, le registrazioni. Noi non si parlava di long lì, ma nel momento, dopo qualche giorno, settimana, che si iniziava a vedere un cambiamento, cioè io immagino dopo la barra di volatilità di novembre, allora non è più only short questo mercato. Questo è un po' di più. Già questo, no? Già questo swing e faccio il ricordo. Però la barra di volatilità lì è stata chiara. Lì è stata... È proprio così, Michele. Cioè, funziona così. Cioè, non è che... Altrimenti, se fosse solo tendenza il mercato, o la price action, se si badasse solo sulla tendenza, noi praticamente dovremmo trattare solo ogni volta che c'è una conferma del trend. Non è detto che c'è garanzia di risultato, eh? No, no. Se ci pensi, no, Michele? Eh. Perché anche lì, la pin fatta sull'euro dollaro il 3 di ottobre, diciamo pin come forma, perché comunque è inside, allora uno dice, vabbè, questa è una pin, quindi si va giù. Eh, questo invece aveva... Stava un po' cambiando il vento, no? E quindi lì... Poi un'altra cosa, un'altra cosa che possiamo dire su questo, Anto, è che per esempio lui ha citato euro dollaro, exau e oro, ma potremmo mettere anche sterline, no? Dobbiamo anche... Cioè, la forza del forex è che ci sono alcuni momenti, molti momenti, e su quello azzurro è l'oro, che a volte scorrela un po'. Ma guardate come, per esempio, euro sterline... Toggo un attimo l'oro, un secondo, lo faccio così. Guardate euro dollaro e sterline a dollaro come sono nel tempo, no? Hanno... Quindi noi abbiamo anche la potenza. Per esempio, quando la sterline a dollaro qui aveva fatto quella pin bar sul weekly, e l'euro dollaro aveva iniziato anche lui un po' a salire, cioè abbiamo la... Ancora più conferma che se uno inizia a salire, perché uno inizia a salire un po' prima, eh, perché sono diverse, non sono la stessa roba, no? E quindi avere anche la potenza che poi, magari, se non vai su uno, magari dopo qualche settimana c'è l'altro, no? E magari c'è l'Australia poi, perché comunque poi si muovono. Quindi c'è anche il forex, ha questa potenza, che oltre al fatto che ti dà magari del conferma, magari di un cambio anche lieve di tendenza, o di price action contro la tendenza, in cui stavamo parlando del fatto che non c'è solo la tendenza, ma in generale, vedete come sono mercati talmente vicini, uno magari sale un po' di più, l'altro scende un po' di più, ma sono nel tempo, io ricordo veramente, non ricordo dei momenti dove queste viaggiano completamente all'opposto, al massimo uno è un po' più forte dell'altro, e quindi euro sterlina che ci viene a dare una mano. Allora c'è anche questa cosa nel forex rispetto ad altro, c'è proprio quasi matematicità di questi movimenti, che diventa assolutamente un gran sottopo. Da un mese, in maniera non esagerata, si tradano mercati laterali, si tradano mercati in tendenza, si tradano, cioè, è vero Artu, cioè tutti, non è che, io mi ricordo, quante volte Artu abbiamo fatto le pin sui mercati in range, con le false rotte? Sì, madonna, certo. Per dirvi, e quindi, non è che si, ah no, queste in range, lo chiudiamo, non lo guardiamo. Anzi, anzi, sono super di qualità quegli setup. Appunto, per questo ti dico, cioè noi, la nostra modalità, è veramente molto ampia, abbiamo un sacco di trigger, un sacco di strutture di mercato tradabili, un sacco anche di mercati, cioè se ci pensiamo, no Artu? Cioè se non è un sacco, tu prima parlavi di euro sterlina, cioè quelle volte in cui euro e sterlina si decorrelano, l'euro sterlina molto probabilmente ha una struttura in quel momento di trend. Buonissima, eh sì, eh. Hai capito? Quindi è proprio, capite come, ora per esempio Simone, che sta un po' più avanti nel programma dell'Accademia, lui adesso sta arrivando proprio alla consapevolezza di, veramente di, la consapevolezza alla fine che cos'è? è una conoscenza legata a un'esperienza, quindi non solo conoscenza teorica, ma anche esperienza perché uno ha capito, e quindi diventa consapevole, ecco questo è la consapevolezza del metodo, cioè, ecco perché poi la consapevolezza ti dà anche la tranquillità, perché tu a un certo punto inizia tutto a spiegarsi, tutto diventa una, ha una logica, non è più un tentativo, ora buttiamo la monetina e vediamo come va. Bravo, e lì diventa, che capisci la potenza di questo metodo. Esatto. Capisci che è universale, come dire, no? Il post di Simone era proprio questo, il post di Simone, il post di Simone diceva proprio questo, cioè lui ora si sta rendendo conto di come effettivamente, con un grafico pulitissimo, quello che lui ha messo, che è praticamente simile al tuo, cioè, quattro livelli messi, una, al massimo una EMA, tu riesci a capire sto mercato che sta facendo, non c'è bisogno, tante robe, tante robe, indicatori, quello che parla, quell'altro che dice la sua, secondo me l'oro fra un anno costerà tanto, cioè, ma chi se ne frega quando parrà l'oro fra un anno, cioè, pensiamoci, no? Sì, sì. Noi, potenzialmente, per quello che ci sta mostrando il mercato, noi nelle prossime settimane, probabilmente, prediligeremo delle entrate long, come da post di Emanuele. Però, se arriva in zona 28, l'argento, e crea una falsa rottura dei massimi, una dinamica, la settimana successiva, il nostro piano dirà, attento anche, vediamo se ci sono anche dei, dei possibili short da fare. Quindi, che ci interessa? Pensate la potenza della price action. Vi faccio vedere, non so se vi ricordate, ottobre 2008, no? Dove, c'è stato il crollo, ma se noi guardiamo, prima, e noi guardiamo da price action, settimanale, guardate dove eravamo qui, eravamo a ottobre 2007, quindi un anno prima, guardate la price action qua, guardate cosa stava succedendo, falsa rottura, doppio massimo lower, maggio 2008, non ottobre. No, ma dico, minimi, massimi, che diventavano sempre più bassi. Guardate, e dopo a settembre, cos'è stato qua? Fine settembre, ottobre 2008, ma era un trend che già andava, cioè noi, si era già strutturato, si era già strutturato. Perché noi, un trader che fa, come dicevi tu, chi si frega che lavorano, noi, short, long. Ardo, ma tu ti ricordi, io non so se voi vi ricordate, io mi ricordo benissimo, quando è stato eletto Trump, Ardo, quando è stato eletto Trump? Di quello, sì. Guardate la price action che ci sta sull'S&P, con le menate che venivano a dire, che con le menate che venivano a dire che i mercati dovevano crollare se veniva eletto Trump, tutte quelle cose che dicevano i giornalisti, gli esperti analisti di mercati, qui ci sarà un crollo epocale, io mi ricordo questi termini, io mi ricordo questi termini, ragazzi. Sì. e la price action invece diceva altro, quindi ignoriamo le stupidaggini, che in alcuni casi, magari alcune volte questi ci prendono pure, ma se uno guarda il grafico, cioè ma che vendi qua? Vendi perché? Allora, se proprio è vero che Trump doveva far crollare i mercati, mica è detto che dobbiamo vendere in quel momento, vendiamo quando la price action e quindi quando il grafico ci ha confermato, non perché lo dice un esperto analista di mercati, cioè vi rendete conto la struttura che ci stava qua? Cioè ditemi voi che cosa si vende qua. Guarda, guarda. Guarda alto, la perfezione qui. No, quella pin che tu hai fatto vedere, che hai messo la freccia verde, quella là è proprio la settimana delle elezioni. E' la settimana delle elezioni. Io me lo ricordo bene. Guarda ora, sali un po', vedi il mese pure come ha chiuso, il mese di, il mensile del, sempre dell'SP. Questo, no. No, no, era 2016. Ardu, Ardu, 16, questo, guarda il mensile, novembre 2016. Questo? Guarda il mensile. Quello era il mensile. Conta le candele verdi dopo, perché io non ho perso il conto, Ardu. Dopo il mensile. Guarda, poi tra l'altro, guarda zona goodbye, Zona ex resistenza, romperi, traccia, la schissi. Che su settimane si vede, si vede benissimo. Però guarda, conta i mesi dopo, vedi, chi ha, chi ha venduto l'SMP sulle chiacchiere che dicevano, guarda. Vabbè, siamo due anni, Anto. Due anni, sono venti in mese. Cioè, capito? Su un grafico mensile non si è vista una candela rossa per due anni. Non di che parliamo. Trump doveva far controllare i mercati. Voi, io, non è che la politica economica di Trump non c'entra perché Trump è arrivato a fare miracoli. Ragazzi, quando noi guardiamo i mercati, non sappiamo nemmeno chi era il presidente degli Stati Uniti prima, dopo, durante, chi era quello che ha fatto la manovra, il mercato spesso ci dà già indicazioni. Il mercato ci dà indicazioni che sono vere perché il prezzo è l'unica certezza, ragazzi, perché il prezzo è vero. Cioè, non è un'opinione di uno che può essere anche esperto, eh, per l'amor di Dio. Non sto dicendo che noi siamo esperti e questi sono stupidi. Io dico, noi, che non abbiamo le mani in pasta, non siamo nei centri di potere, eh, siamo due persone, io e Ardu, che sia o no spostiamo i nostri soldi, cioè, nel senso che li tradiamo, eh, però, ci basta, senza seguire, io non seguo un teo giornale da anni, non, non seguo netizie, macroeconomiche, queste cose qua, noi, cioè, io faccio il mio trading, semplice così, stando attento agli swing, tutto il lavoro sulle estensioni, su quelle cose là, che è un lavoro, tra l'altro a me, mi è piaciuto, è piaciuto anche, no, fare, che però mi hanno fatto capire tante dinamiche, che non c'è bisogno di andare a complicarsi la vita, cioè, queste sono quattro, cinque cose, dove tu, nel momento in cui hai la consapevolezza e la padronanza di quello che stai facendo, tutto diventa, non voglio dire facile, perché mai nulla è facile, ma semplice è sicuro, semplice, è semplice, infatti il nostro metodo non è facile, come in ogni situazione, ma perché non è che uno arriva ieri mattina e domani mattina lo sa, quello sarebbe facile, invece è semplice, perché uno, se si applica, e qua lo stiamo vedendo con i ragazzi in accademia, dove alcuni sono partiti che erano, avevano già delle basi di price action, altri che stavano veramente agli inizi e invece stanno tutti allineati a bene o male, in base al programma che loro stanno portando avanti, che poi ovviamente il programma è personalizzato, ecco perché, cioè, chi sta più avanti, chi sta più indietro, perché, perché è così che funziona, però alla fine dei famosi del periodo, succederà questo, succederà che tutti loro, se avranno fatto le cose, le indicazioni che gli abbiamo dato, che come stiamo vedendo, cioè, avranno quella consapevolezza che sta avendo Simone in questa fase, no? Cioè, raggiungeranno quell'obiettivo addirittura di più, perché adesso Simone è comunque ancora in una fase di studio, poi ci sarà l'esperienza sul campo, però come fai a fare male quando tu parti con dei presupposti? Ecco l'idea dell'Accademia, no Ardo? Cioè, quando tu parti con... Sì, perché no Ardo, possiamo dire che il metodo che noi cerchiamo di spiegare nell'Accademia, nei corsi che abbiamo fatto, che faremo, non possiamo dire, perché purtroppo non è scienza, non è scientifico, ma abbiamo visto dall'esperienza mia in primis e poi tua e di altri, che guardando determinate dinamiche su time frame alti, lavorando con le conferme, parlando appunto di volatilità, livelli, tutto quello di cui abbiamo detto fino adesso, in effetti ci sono delle probabilità molto forti che il prezzo in quel momento visto su time frame alti, quindi è influenzato da tutto quello che potrebbe esserci appunto quel dato, potrebbe esserci quello che parla, potrebbe esserci l'aspettativa appunto su un'elezione, qualsiasi roba. Poi alla fine c'è chi investe, chi disinveste, chi specula, chi non specula, e lì, nei prezzi, se guardiamo i time frame alti, c'è tutta quella roba lì, c'è la legge della domanda e dell'offerta, chi se ne frega la cosa è stata dovuta, cioè noi trader, cosa se ne frega, dà solo informazioni, come diceva anche Luca, che ci influenzano e come dici anche tu spesso, Anto, ci svantaggiano, invece in questo caso il prezzo ci dà veramente, e quindi non è scientifico, ma potremmo dire che per noi quasi lo è, perché è talmente verità e l'abbiamo visto sulla nostra pelle, diciamo, sul nostro esperienza, che in realtà è così, è così. No, ma poi c'è da dire un'altra cosa, parlando delle informazioni, che le informazioni sono a differenza del prezzo reale e effettivo, parlo dei mercati liquidi, non parlo di piccole azioni che possono essere manipolate, ma nel forex, cioè come fai tu a manipolare un euro-dollaro? Poi me lo spieghi in termini pratici a livello economico. Impossibile. Ma l'abbiamo visto anche da casi veri, Anto, euro-franco, cioè noi l'abbiamo visto, banche centrali, non stiamo neanche parlando di istituzioni bancarie, stiamo parlando di banche centrali, non sono in grado di mantenere il prezzo. Non sono in grado, quelli volevano tenere, ha voglia tu a dare dichiarazioni a tutto quello che volevano, come il direttore della banca centrale svizzera. che adesso va anche di moda, no? Questa cosa, la manipolazione, queste cose qua. Sì, tutte queste cose qua. Ragazzi, le informazioni, in realtà l'unica cosa che può essere manipolata, non è il mercato, per questi mercati parlo, possono essere manipolate le informazioni. Sì, no, giusto. perché l'informazione, tra virgolette, può essere, cioè può essere data. Voi immaginate, tutto quel, sicuramente saranno state entrate delle persone short su un mercato, l'S&P, in virtù del fatto che Trump è stato eletto, io già lo so, che sicuramente la PIN, da che cosa è costituita? Dal fatto che parecchi hanno venduto e il prezzo poi, quando c'è stata l'intenzione, hanno comprato, chi doveva comprare. Quindi capite come quante persone lì hanno venduto a mani basse senza motivo e invece magari chi ha messo in giro l'informazione stava comprando. Purtroppo è così che funziona. Ecco perché non dobbiamo andare dietro a queste cose. Eccolo qua il giorno delle elezioni, Anto, esattamente il 9 novembre 2016. Eccolo qua. Esatto. Era un martedì? Era un martedì. Era il giorno delle elezioni. Mercoledì, mercoledì notte. Il martedì c'è. Il giorno dopo. Capito? Allora, eh sì, perché il giorno dopo si sapeva chi era il presidente. Perché a mezzanotte tra martedì e mercoledì c'è stato il movimento sotto. Quindi prima shortone, shortone, finta, fake, no? Falsa rottura, longone. Cioè qui addirittura si poteva tradare il daily senza manco aspettare il settimana per quello che era successo. poi noi siamo meticolosi. Potevamo anche anche tu, addirittura si poteva aspettare due o tre giorni come al solito per capire se vorrei tracciarvi più o meno. Perché tanto... Però voglio dire, quello che è manipolabile se si parla, ecco, ecco perché noi spesso diciamo, ecco perché poi ci vuole anche la parte mindset, perché purtroppo io ve lo devo sottolineare, dici, ma vabbè, tu porti a valori, può essere un mio bias si conferma, ma in realtà parlando di bias dico a Luca, voi dovete sapere che l'over information è uno dei quattro meccanismi grandi, big meccanismi, chiamiamoli così, dei meccanismi più importanti. Sono quattro i motivi per cui il nostro cervello nella fase decisionale va in bug, ok? Sono quattro, è come se fossero quattro canali, quattro grandi motivi, chiamiamoli così, quattro grandi motivi. Uno di questi quattro grandi motivi è l'over information, cioè le persone che paradossalmente si informano troppo, ok, o che sono soggette ad avere troppe informazioni, a un certo punto il loro cervello per matematica va in confusione, giusto? Quindi se io ti do troppe informazioni tutte in una volta, a un certo punto tu non capisci più nulla e la parte il random e alla fine tu farai quello che sentirai più spesso. Quindi se tutti dicono che crollerà il mercato perché è stato eletto Trump, tu venderai. Ti fa influenzare, diciamo. Perché, eh, e ti viene influenzato. nonostante tutto, magari qua, ma voi, il problema non è chi ha venduto il mercoledì, Ardu, là il problema è che hanno venduto il giovedì, il venerdì, il sabato, la domenica, le successive, cioè tutte le settimane successive hanno venduto. Questo è il problema. Va bene, dai. Comunque, piano piano ci si arriva. Bene, bene, bello, bello. Va bene. Allora, beh, aspetta che c'è Michele che qua dice la cosa più manipolabile oltre alla info, alle informazioni è la nostra mente. Meglio scollegati che over informati. Attraverso le informazioni, l'over information, Michele, è esattamente così. Loro non è che manipolano l'informazione perché si divertono sulle informazioni, perché sanno, quella è la causa. L'effetto è che manipolando l'informazione, e tecnicamente stanno manipolando noi più che la nostra mente perché noi siamo degli esseri attivi, cioè che agiamo, ok? Perché se noi fossimo, cioè se, se noi fossimo degli esseri che non facciamo un'azione, l'informazione non ci servirebbe a nulla se ci pensate. Cioè non ci toccherebbe. O no? Cioè se tu vai su un pezzo di pietra che è inanimato, giusto? La pietra è pietra. Tu vai e ci parli e dici, guarda, sei bellissimo o sei bruttissimo alla pietra. La pietra cambia forma? No. Noi, essendo esseri invece che veniamo influenzati dall'ambiente esterno, la pietra no. La pietra viene influenzata nel medio-lungo termine dalla pioggia, ma non da ciò che uno dice, dalle informazioni, non gliene fotte nulla la pietra dell'informazione. Capite? Quindi è proprio questo il discorso. Ecco perché dobbiamo imparare noi, dentro di noi, dentro di noi, abbiamo già tutto quello che ci serve. Lo dobbiamo solo, l'unica cosa che dobbiamo imparare è a mettere in ordine, fare ordine. cioè, la formazione, non le informazioni, ma la formazione, serve a mettere in ordine a quello che è già dentro di noi e che funziona, ve lo dico che funziona. E tra l'altro che funziona è perché è disordinato, perché ci hanno riempito di tante informazioni e a un certo punto noi non sappiamo più nulla. Addirittura Luca dice che nel momento in cui c'era Trump, il suo consulente bancario, si vede che lui aveva ISLTF sull'S&P 500, si vede che aveva un investimento sull'S&P 500 addirittura quello della banca che si fa appunto e va in ovole informazioni. Ecco, la testimonianza oculare. Luca, hai visto? Il problema è che noi queste cose qua le dicevamo, cioè, personalmente io me la ricordo perché mi ricordavo di questo evento perché proprio era sintomatico. Ma noi queste cose le dicevamo in diretta, in esclusiva, come su Sky, no? in quel momento. Eh sì, è verbarissimo questa cosa, poi l'abbiamo, e io ricordo un altro evento un po' prima quando c'era l'Eurofranco che per due anni sono andato avanti tutti a dire ma siccome la banca centrale tutto ormai era diventato idea comune, no? E la banca doveva tenere, no? doveva comprare Eurofranco. Tanto la banca centrale stampa quanti franchi vuole, no? E la lo può fare, no? No. Invece la price action ci diceva il contrario. No, ma ragazzi, non so perché noi ogni tanto poi lo diciamo sto fatto dell'Eurofranco ma voi dovete sapere che in quel periodo Arduino veniva perculato nelle trasmissioni e nei blog e negli articoli ovunque. Sì, negli articoli, nel blog, cioè dovunque lo intervistavano e lui diceva no ma io short Eurofranco, short Eurofranco, lo prendevano in giro. io non so chi di voi ha visto il film The Big Short che in italiano hanno chiamato con quel titolo orrendo hanno tradotto La Grande Scommessa. La Grande Scommessa. Cioè. Bruttissimo. Non sanno fare manco le traduzioni dei dell'inglese. Anche adesso. Anche quella è manipolazione, ragazzi, guardate, cambiano le parole. Comunque, The Big Short, vi ricordate come veniva Deriso, Michael Burry, quando voleva cercava qualche banca che gli faceva e gli creasse degli swap sulle obbligazioni immobiliari. Ti ricordi Ardu? Ah sì. Non so se vi ricordate la scena ma Michael Burry quando andò a Deutsche Bank e altre banche veniva, è stato no, JP Morgan andò. Quelli di JP Morgan gli ritevano in faccia. il fatto è che due anni dopo non ritevano affatto perché quello guardava i dati non le chiacchiere. Michael Burry non è che ha fatto un colpo di genio, ha guardato i dati, la realtà, ha visto che stava una sovraesposizione, cioè non è che si è messo short ecco, perché era un'opinione di qualcuno. Lui ha guardato i dati, cioè lui ha guardato quella è storia vera ragazzi, stiamo parlando di cose vere, fatti realmente accadute. Ed è successo ieri mattina si può dire, no? Cioè stiamo parlando di 15 anni fa, niente. Quello guardava i dati, quello ha previsto il crollo del mercato immobiliare americano, ma perché ha visto che c'era, era una bolla e quindi prima o poi questa bolla doveva scoppiare, ora non sapeva proprio preciso, preciso, però più o meno ci ha preso anche il tempo come timing. E comunque se abbiamo visto il mercato americano si vedeva già da un anno prima che la price action sul Wheatley era short, massimi, minimi decrescenti, era sotto la media, aveva tutti i segnali di prezzo short, cioè cose che non... C'è quello, no? Lui dopo aveva visto proprio addirittura, perché lui è andato sui titoli specifici che è il mercato immobiliare, cioè lui là aveva visto, non è che quello magari... La conseguenza era che ci potevano, si potevano fallire delle banche, delle cose, quella era la conseguenza, lui non è che aveva previsto che dovevano fallire le banche, la conseguenza poi porta è che se crollavano quelle, è ovvio che fallivano tutte le banche perché erano piene di istituitoli tossici. Alla prossima! Is that for me?